oioioioioi aspetta un attimo che mi siedo qui non ho più l'età che fatica ragazzi ragazzi non sarete più ormai ragazzi neanche voi è passato tantissimo tempo non ho più forza per fare queste cose sono troppo vecchio per fortuna che il mio bastone di cash che mi aiuta bastone della tacchiaia e si quella volta quando mi ricordo ai bei tempi quando facevo recensioni recensioni? ma si recensioni me che te che è qui è tornato sono ancora vivo ragazzi a parte i capelli quelli un po' impolverati ma per fortuna quelli si possono lavare la cosa triste e la cosa preoccupante è che questa faccia non si può cambiare è proprio così sono ormai passato sotto uno schiacciassassi praticamente la mia vita privata mi ha risucchiato completamente tutto non mi sono fatto più vivo so che molti di voi mi scrivono in privato scusate se non ho risposto a nessuno sono ancora qui ogni tanto sbucherò da questo vostro monitor a raccontarvi qualcosa vi chiedo solo scusa se non sarà più con una cadenza regolare magari come era prima andiamo a vedere oggi una recensione interessante sempre che il mio fisico mi supporti e abbiate pietà per questa faccia insomma i capelli adesso vado a lavarmi andiamo a vedere la recensione di Redmi Note 7 la memoria però tiene ancora di Xiaomi no non è di Xiaomi è Redmi andiamo a scoprirlo insieme grazie al mio ombrellino di Cars adesso posso anche portare anche sfiga più che cosa sto facendo andiamo a vedere la recensione basta Mac sono tornato andiamo a scoprirlo insieme ben ritrovati qui su Mac si siamo tornati finalmente devo dire sono anche parecchio emozionato beh sorvolo sul fatto della vita privata un casino incredibile ragazzi scusate se non vi ho risposto alle tante richieste dove sei finito Mac cosa ti è successo sei vivo addirittura sei vivo ti è ragazzi per fortuna sì o peggio per voi dipende dai punti di vista siamo tornati oggi con una bella recensione di un telefono incredibile Redmi Note 7 ragazzi preparatevi perché è davvero una bomba ringrazio tutti quelli che mi hanno contattato scusate ancora una volta se non vi ho risposto so che non vi racconto mai troppo della mia vita privata ma credetemi in questo periodo è stato un po' un casino diciamo se prima facevo recensioni fino alle 3-4 di notte potevo farlo adesso le 3-4 di notte le faccio per altri motivi però appunto personali quindi non sto troppo a tediarvi andiamo a vedere questo telefono Redmi Note 7 il primo telefono targato Redmi ovviamente sempre Xiaomi però Xiaomi sparisce proprio dalla confezione nuovo brand per questa serie Note Redmi Note 7 tra l'altro è in versione global quindi pronta all'utilizzo nel nostro paese in Europa in Italia tranquillamente e questo modello appunto è stato acquistato da un euro da un mio collega di lavoro che ringrazio che l'ha prestato a Mac per fare poi la recensione ringrazio anzi sua figlia che porre testa privata di questo telefono da una settimana eh me grazie Mirre per il prestito ovviamente l'ho provato a fondo una settimana piena e devo dire che è davvero un bel telefono ma andiamo a vedere in attimo cosa c'è nella confezione ragazzi scusate intanto l'emozione di questa recensione dopo 3 mesi e mezzo quasi devo dire non sono più abituato andiamo a vedere cosa c'è all'interno beh i soliti manualetti che non vi sto qui a far vedere con il quick start eccetera eccetera redmi e xiaomi tra parentesi pellicola in silicone in questo caso abbiamo la colorazione grigetta se acquistate la colorazione quella blu e rosa è trasparente in silicone ben fatta quindi tiene bene il telefono e sotto poi abbiamo il classico carica batterie xiaomi presa europea appunto è venduto direttamente nel nostro paese abbiamo 5 volt 2 ampere come ricarica quindi 10 watt anche se il telefono come vedremo supporta il quick charge 4.0 però purtroppo in confezione non c'è un caricatore che supporta questo tipo di ricarica abbiamo poi un cavetto usb type c ragazzi si ebbene si type c ragazzi finalmente anche xiaomi o meglio redmi si è decisa ma diciamo xiaomi si è decisa ad utilizzare il nuovo standard ed ecco qui il telefono della sua bellezza qui abbiamo la colorazione nero prezzo bomba già vi anticipo tutto 199 euro sono acquistate fisicamente da 1 euro quindi non c'è molto da dire è un telefono che come vedremo non ha credo rivali a questa fascia di prezzo abbiamo una doppia fotocamera fra un po' ci soffermeremo bene a spiegarvi un po' questa doppia fotocamera tra l'altro come potete già vedere anzi ve lo giro così lo vedete sicuramente meglio vedete 48 megapixel con dual camera con intelligenza artificiale flash LED qui sotto sblocco tramite impronta nella parte centrale e sotto vedete abbiamo la scritta la metto un po' in controluce vediamo se si vede meglio ok e sotto c'è scritto appunto bike xiaomi o meglio xiaomi come molti ci tengono che io dica vado a accendere il telefono intanto vediamo i tempi di accensioni vi do subito le dimensioni abbiamo 75.21 mm di larghezza 159.21 mm di altezza spessore 8.1 batteria da 4000 mAh devo dire ci porta a sera tranquillamente io ho fatto anche un giorno e mezzo si ricarica in circa un'ora e 45 con il caricatore che c'è in dotazione quindi non velocissima la ricarica però appunto supporta quick charge 4.0 di qualcomm quindi potrete eventualmente ricaricarlo in brevissimo tempo abbiamo poi come materiali vetro nella parte posteriori in questo caso abbiamo la colorazione nero appunto c'è anche blu e rosa come vi dicevo in quel caso avrete una sfumatura diciamo in stile honor parte appunto dietro in vetro abbiamo parte ovviamente di vetro anche frontale e alluminio per quanto riguarda la parte del frame laterale devo dire che l'impugnatura è buona si tiene bene in mano c'è lo sblocco facciale c'è lo sblocco con impronta andiamo subito a provare lo sblocco tramite impronta vedete appoggio il dito uno e questo l'ho messo male io scusate riprovo vi faccio vi faccio avete visto sblocco praticamente istantaneo molto molto bene davanti abbiamo il notch non so se si vede apro magari chrome così si vede un po' meglio notch a goccia e devo dire che come design non mi dispiace affatto io non sono un amante del notch in questo caso devo dire che forse è la soluzione migliore questo design mi è piaciuto davvero molto cornici non sottilissime soprattutto nella parte inferiore e superiore dall'altra parte dovesse c'è anche spazio per la capsula ricordare che è qui sopra e anche qui c'è lo spazio per il sensore di luminosità e prossimità piccolo led bianco qui quindi monocolore qui sotto nella parte inferiore che si vede diciamo appena appena non è proprio fortissimo sotto abbiamo i tasti ovviamente sono dentro il display non sono sulla scocca è possibile attivare poi le gesture in classico stile MIUI in questo caso 10.2 e abbiamo anche ovviamente nella parte sinistra il carrellino per il dual sim supporta due sim oppure una sim e un'espansione di memoria vediamo se riesco a mettervi a fuoco qui è tutto un riflesso non si vede praticamente nulla abbiamo il type c abbiamo l'autoparlante il microfono sul lato destro abbiamo il bilanciere del volume tasto di accensione e spignamento e sopra abbiamo grazie a dio il jack tra mezzo delle cuffie il secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali e poi abbiamo anche il sensore di infrarossi per utilizzare questo gran telefono anche come telecomando quindi potrete dal divano utilizzare questo invece di andare in cerca sotto il divano sotto i cuscini del telecomando che obiettivamente non si trova mai quando serve ovviamente essendo venduto in Italia direttamente da 1 euro appunto supporto anche la banda B20 non ho avuto alcun problema con un Iliad categoria 12 per quanto riguarda LTE categoria 13 per quanto riguarda invece l'upload ciò significa che supporta anche il 4G plus e devo dire che funziona anche bene ovviamente supportato anche voice over LTE display come vedete un display davvero buono ovviamente stiamo parlando di un telefono di fascia medio bassa ragazzi come prezzo ma sicuramente tra i migliori di questa fascia se non il migliore appunto a 199 euro non credo si possa trovare di meglio sto facendo degli spoiler ma dai ormai questa recensione del ritorno è un po' fatta così vi dicevo appunto che supporta anche il 4G plus e il display stavo parlando appunto del display abbiamo 6.3 pollici full HD plus è un IPS 2340x1080 devo dire si vede bene sotto il sole buona la luminosità il nocia goccia ho detto prima mi piace davvero davvero molto 19 no 19 e mezzo noni sarebbe proprio il suo rapporto di forma 409 ppi per quanto riguarda i pixel per pollice il display devo dire si vede appunto bene sotto il sole è abbastanza antiriflesso anche in ambienti con luminosità elevata comunque si vede bene c'è da dire però che con gli occhiali polarizzati se lo tenete in verticale non vedrete niente dovrete girarlo in maniera orizzontale questo è un po' il problema che abbiamo trovato già su altri telefoni di Xiaomi anche se questo è appunto è un Redmi ma in realtà non cambia sostanzialmente nulla dentro questo a scocca abbiamo poi lo Snapdragon 660 prodotto a 14 nanometri Octa-Core Crio 260 4 core a 2.2 GHz e 4 core a 1.8 GHz un po' come abbiamo visto per il Mi 8 Lite e il Mi A2 diciamo che il Mi 8 Lite dal mio punto di vista è stato un po' un predecessore di questo Redmi Note 7 la recensione del Mi 8 Lite non è ancora uscita ragazzi lo so ho fatto l'unboxing praticamente prima che mi prestassero questo Redmi Note 7 devo dire è diventato praticamente il mio telefono fisso personale il Mi 8 Lite perché davvero funziona molto bene spero di avere il tempo di fare la recensione anche di quel telefono comunque diciamo che tra i due forse andrà direttamente su Redmi Note 7 appunto perché è quello più nuovo è quello forse leggermente leggermente migliore 4 GB di RAM 64 GB di memoria interna per questa versione c'è anche una versione 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna memoria interna che è MC 5.1 però espandibile tramite micro SD fino a ben 256 GB io ho utilizzato un'espansione Samsung da 128 e devo dire mi son trovato mi son trovato bene Wi-Fi Wi-Fi abbiamo 811 a BGN a C supporta il dual band quindi abbiamo sia la banda 2.4 che la banda 5 GHz e supporta anche MIMO ma non solo abbiamo il Bluetooth 5.0 andiamo fuori hanno cambiato l'interfaccia a CPUX adesso sono abbastanza incasinato nel cercare le cose andiamo a vedere le feature appunto vi dicevo abbiamo il Bluetooth 5.0 abbiamo no non abbiamo l'NFC in questo caso però abbiamo il GPS GPS a GPS Glonash quindi funziona anche piuttosto bene il fix non è velocissimo ma comunque è buono come sensori giroscopio sensore di luminosità e prossimità accelerometro bussola elettronica porta infrarossi sensore di impronte digitali sensore eccetera eccetera insomma abbiamo praticamente tutto a parte appunto l'NFC supporta OTA si tramite appunto la Type-C supporta OTG si questa ROM è ufficiale quindi la mia iGloba non avrete alcun problema con gli aggiornamenti appena vi arriverà potrete utilizzarlo come fosse un telefono normalissimo avete il Play Store installato lingua italiana funziona tutto a meraviglia non dovrete fare nulla vi faccio vedere la versione che sto utilizzando io in questo momento l'ultima presente appunto la mia iGloba 10.2 in questo caso 10.2.3 questo proprio vedete la versione 4 64 giga che è quella che sto utilizzando io e devo dire che non si comporta affatto affatto male la GPU prima che mi dimentichi è una Dreno 512 croccata fino a 650 MHz ma andiamo magari proprio a vedere il display che è la parte forse dove Redmi ha risparmiato un po' per contenere i prezzi però devo dire che tutto sommato è davvero un buon display non mi sento assolutamente di bocciare questo display anzi tutt'altro lo promuovo sicuramente a pieno per la fascia di prezzo in cui si va appunto a collocare vado ad aprire la galleria di test eccola qui andiamo a vedere un po' i colori qua la luminosità adesso la alziamo al massimo vediamo un po' se siamo già al massimo alziamo al massimo vi faccio vedere anche il livello di luminosità di questo display davvero molto molto buono buono i colori forse tende un po' a saturare i colori effettivamente questo display però c'è ovviamente come tutte le mie la possibilità di andare poi a regolare di fino i colori come più ci piace a noi l'angolo di visione è comunque buono si ovviamente virano un po' i colori ma devo dire che tutto sommato resta davvero piacerelo e da vedere questo display e anche qui vedete come si comporta bene anche con i vari colori davvero molto bene forse appunto leggermente saturi ma nel complesso dà una sensazione di vivacità le foto che a me personalmente non mi dispiace di taglio si il nero diventa grigio classico difetto se vogliamo degli IPS però in linea generale ha un buon bianco un buon display si vede bene sotto il sole quindi promosso certamente il display andiamo a vedere adesso un'altra parte molto attesa per questo telefono vi parlo della fotocamera immediatamente vedete ho due fotocamere questa è quella ufficiale Xiaomi adesso vi vado a spiegare anche il perché è la classica interfaccia MIUI quindi abbiamo la possibilità di fare video foto diciamo quella che abbiamo visto più volte più volte ha anche buona la velocità di scatola messa a fuoco non ha alcun tipo di problema un problema l'ho trovato invece quando vado a registrare le video perché vedete se avete inserito una micro sd almeno questa micro sd che ho io da 128 gigabyte ho provato anche con una da 64 ho avuto lo stesso problema quindi non so se è un difetto di questa versione software di questo telefono che ho io ma vedete quanto ci sta a registrare adesso ho premuto il tasto direct vedete non parte la registrazione fra magari 10 secondi partirà e andrà a registrare quindi sicuramente un difetto per quanto riguarda la fotocamera quando utilizzerete supporto micro sd foto ecco vedete è partito adesso incredibile vado a fermare la registrazione magari facciamo una foto per farvi vedere la tempi di messa a fuoco 1 2 3 davvero veloce non ha problemi anche lo scatto considerando appunto questo difetto della micro sd comunque è buono se utilizzate la memoria interna del telefono non avrete alcun tipo di problema abbiamo poi l'intelligenza artificiale che va un po' a settare meglio i contrasti i colori eccetera eccetera in base ai scenari prestabiliti che rileva automaticamente l'hdr automatica adesso io qui l'avevo disabilitato abbiamo ovviamente la possibilità di disabilitare il flash e tutti gli effetti seppia non seppia eccetera 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 vivo non vivo chi se frega torniamo indietro e poi abbiamo le solite impostazioni dell'interfaccia MIUI per quanto riguarda la fotocamera ritratto un ritratto quindi effetto bouquet che devo dire funziona molto bene anche con questa fotocamera stock notte anche qui alle volte riesce a fare molto bene anche in condizioni di scarse luminosità c'è da dire però che mentre vi parlo di tutto questo vi consiglio di andare a installare la fotocamera di Google la Gcam perché effettivamente questo telefono supporta alternativamente le camera 2 API quindi potrete andare a utilizzare la Pk lo installate e zack e tac avrete la fotocamera di Google praticamente utilizzabile e conosciamo bene le potenzialità di questa fotocamera devo dire che le foto vengono davvero bene in linea generale buona la sensazione che dà soprattutto poi se andiamo a zoomare i dettagli sono davvero buoni e quando non imposteremo i 48 megapixel forzatamente vi faccio vedere anche dove non vi ho fatto vedere dove si vanno a impostare bisogna entrare dentro la MIUI Cam andare nella modalità professionale ecco qui anche lo scrolling non mi fa impazzire particolarmente vedete qua su in alto ci abilita questo tasto 48 megapixel con tanto di scritta un po' cinesotta che viene fuori e potete scattare appunto foto a 48 megapixel generalmente senza quella modalità scatterà a 12 megapixel intanto qui esce anche un'offerta ai tech ragazzi vi ricordo andate a vedere il canale delle offerte ai tech perché escono anche offerte per questo Redmi Note 7 quindi Telegram installatelo andate sul canale offerte ai tech comunque trovate sotto nel link per aggiungere il canale Telegram delle offerte ufficiali mac ai tech appunto come fotocamera devo dire promossa fotocamera principale che vi faccio vedere qui dietro sporge leggermente devo dire non leggermente piuttosto in maniera fastidiosa anche con la cover tende ad uscire a me non mi ha fatto particolarmente pazzire diciamo ha un effetto un po' dondolino quando andate a scrivere soprattutto con le lettere ai lati della tastiera con la cover si viene un po' mitigata questa cosa però lo stesso qualcosina si muove però vabbè sono finezze per un telefono a 199 euro versione 4.64 c'è anche una versione 3.32 che costa decisamente meno siamo attorno ai 170-160 euro se non ricordo male ma a 199 euro io vi consiglio ovviamente la versione 4.64 all'autofocus pdf quindi autofocus a rilevamento di fase apertura focale 1.8 quindi davvero molto buono cattura molta luce e il secondo sensore è da 5 megapixel con apertura focale 2.0 che dà appunto l'effetto profondità nelle foto con l'effetto bouquet non c'è stabilizzazione ottica c'è solo stabilizzazione digitale ovviamente per un telefono di questa fascia di prezzo però devo dire che anche nei video come potete vedere la stabilizzazione è buona sia che utilizzate la MIUI cam che la G cam in entrambi i casi ho trovato buona la modalità video full hd 1080p 60fps per secondo se utilizzate la MIUI cam se andate a utilizzare la G cam potete arrivare fino all'ultra hd quindi aumentare la risoluzione dei video fotocamia frontale da 13 megapixel qui davanti anche lì fa buoni scatti anche i selfie se amate i selfie on se siete dei selfionisti professionisti vi troverete a vostro agio anche con l'effetto ritratto scontorna molto bene andiamo a vedere adesso un po' come funziona dopo questa pappardella ragazzi sto tirando davvero lungo scusate per la lunghezza di questa recensione ma perdonatemi rientro è così andiamo a vedere come funziona Chrome andiamo a aprire il nostro sito di fiducia beh il nostro sito di fiducia il primo sito che ci viene in mente corriere.it andiamo a chiedere la versione ovviamente desktop devo dire che per la navigazione non avrete alcun tipo di problema funziona molto bene buona la connettività buono il wifi buona la scorrevolezza della pagina ovviamente adesso sta ancora caricando ma qui ha un limite del wifi a cui siamo connessi adesso però vedete non ha alcun problema nello scrolling vedete si sta un po' renderizzando adesso qualche piccolo lag proprio per sentirmi ma in realtà devo dire che funziona bene guardate adesso che ha caricato non ha alcun tipo di problema pinzo zoom buono segue bene il dito accidenti le clerk mamma mia che robe ragazzi vabbè che robe andiamo a vedere adesso come funziona invece la parte multimediale apriamo un po' delle nostre famose applicazioni di test gestore delle pagine che è uguale un po' aprire facebook vedete non velocissima l'apertura comunque neanche male lo scrolling nei primi secondi lagga un pochettino però poi quando è caricata vedete funziona bene quindi nell'utilizzo quotidiano devo dire che è un telefono che non fa poi così male soprattutto appunto considerando che si tratta di una fascia medio-bassa guarda anche qui in instagram va bene le storie in instagram le registra bene non ha problemi di lag di alcun tipo andiamo a aprire anche twitter vediamo un po' i tempi di avvio anche qui in questo caso avete visto buoni scrolling si all'inizio qualcosa lagga ma più per i tempi di risposta di caricamento dalla rete internet dei dati più che per il lag in sé dello scrolling però vedete una volta che ha caricato i dati funziona bene anche in questo caso quindi sicuramente promosso questo telefono per quanto riguarda parte multimediale sia per quanto riguarda display la camera sia per quanto riguarda la velocità delle applicazioni considerando appunto che si tratta di un telefono da 199 euro e non lo ripeterò fino praticamente allo sfinimento andiamo a sentire anche un po' come si sente questo telefono telefono che ha una sulla cassa benvenuto in Iliad ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad se chiami da altra rete avete visto possibilità di registrare la telefonata audio decisamente elevato sia per quanto riguarda il viva voce che la riproduzione multimediale di file audio quindi anche in questo caso promosso Redmi Note 7 molto bene è difficile proprio trovare un difetto che ne comprometta l'usabilità generalmente si c'è qualche difetto però tutto sommato visto il prezzo si deve sicuramente chiudere un occhio c'è la radio FM si c'è ragazzi quindi anche la radio è completa andiamo a aprire l'IRS andiamo a aprire l'IRS ho detto un po' tutto vediamo un po' se mi viene in mente qualcos'altro ragazzi scusate sto un po' improvvisando insieme a voi vi ho fatto vedere la galleria di test no andiamo a vedere si ve l'ho fatta vedere sto veramente ragazzi scusatemi dormo pochissimo sono fuso non mi ricordo praticamente nulla è già tanto che mi sto ricordando quello che sto dicendo in questo momento mi sono già dimenticato cosa sto dicendo si real racing appunto andiamo a vedere real racing apriamo i tempi di apertura vediamo 1 2 3 via ok partiti real racing redmino 7 vediamo un po' come si comporta mac dopo 3 mesi di assenza dalle piste snapdragon 660 treno 512 ragazzi sono già ubriaco avete visto mamma mia meglio che mi concentro sulla guida vediamo un po' qua la curva si lagga no guardate è abbastanza fluido no è decisamente fluido full optional vedete tutti i dettagli insomma un telefono che va bene anche per giocare tra l'altro non scarda neanche poi tanto il 660 da questo punto di vista è davvero buono quindi promosso anche per quanto riguarda la parte gaming questo redmino 7 ovviamente non è un telefono da gamer però potete giocare tranquillamente a qualche dettaglio magari in qualche gioco dovrete rinunciarvi però in generale devo dire funziona bene anche nel gaming abbiamo poi tutte le classiche impostazioni in UI dal display con la luminosità automatica adattiva si può poi regolare di fine contrasti colori come vi accennavo comunque potrete andare a regolare i colori del display doppio tocco per attivare lo schermo rotazione automatica sollevare per attivare e questa è una comodità non da poco perché quando mettete giù il telefono sollevate si attiva e se avete messo anche lo sblocco facciale avete visto si sblocca ragazzi non vi avevo detto si c'è anche lo sblocco facciale tramite fotocamera anteriore adesso vi faccio rivedere alzo il telefono mi giro verso ovviamente ovviamente non ha funzionato ma generalmente 99 volte succedito funziona alzo lo display tac tac sbloccato guardando il faccione di mac che credetemi ha del coraggio a guardare questa faccia perché come avete visto dall'intro sembra passata sotto un carro armato andiamo a vedere poi la gestione di temi non c'è tutta la gestione di temi Xiaomi come siamo abituati su questo Redmi per problemi di privacy è stata limitata speriamo che venga sbloccata poi questa cosa ovviamente potete sempre girare la cosa scegliendo un paese non Italia ovviamente abbiamo lo sblocco appunto come dicevo tramite impronta tramite dati del volto insomma tutte le varie impostazioni che abbiamo sempre visto sono i miei secondo spazio quindi può avere due telefoni dentro un telefono singolo abbiamo la possibilità di clonare le applicazioni quindi avere due whatsapp per funzionare con due numeri diversi essendo un telefono appunto dual sim in generale comunque un telefono che funziona bene abbiamo la possibilità appunto di regolare il led però non c'è la gestione del colore essendo appunto monocolore sto dicendo un po' tutto quello che mi viene in mente guardando questo telefono c'è la modalità ad una mano ovviamente facendo uno swipe qui sui tasti giù sotto potrete attivarla ovviamente dovete attivarla prima qui sopra e vedete potete tranquillamente andare a richiamare la gesture per attivare l'uso ad una mano io non l'ho attivata perché comunque mi trovo bene utilizzarlo senza questa utility però potrebbe essere comoda tra l'altro c'è anche la gestione eventualmente con le gesture se andiamo dentro display dove sei visualizzazione a schermo interno ecco vedete potete togliere praticamente i tasti sotto e andare a utilizzare le gesture quindi ci tiene premuto nel mezzo tenendo in su ci entra nel task manager per andare in nome si va in su per andare indietro si fa uno swipe verso il centro partendo dai lati ad esempio così e niente devo dire è abbastanza comodo se non utilizzate ad esempio la swipe perché appunto quando andrete a fare la pila da questa zona qui partete da lì magari la prenderà come uno swipe piuttosto che una torna indietro o meglio lo prenderà come una torna indietro piuttosto che uno swipe per scrivere ma piccoli dettagli abbiamo poi le notifiche si ragazzi nonostante il notch sia così piccolo le notifiche ci sono ma un po' castrate diciamo perché quando arriva una notifica compare qui in alto ma compare per pochi secondi poi scompare e le troverete qui sotto avete visto infatti qui mi sto trovando le notifiche che qui non vedo più se arrivassero le notifiche adesso però comparirebbero per qualche secondo anche qui non mi trovo pace perché con tutto lo spazio che c'è ho anche abilitato la visione del traffico istantaneo dati togliendo questo c'è moltissimo spazio per mettere le notifiche chissà che prima o poi con questa soluzione a nocce che devo dire davvero piacevole aggiungono anche questa possibilità si ci sono delle applicazioni che aggiungono le notifiche sotto nella parte diciamo superiore del display però sono tutti dei workaround che a me non fanno impazzire comunque dai ci si abitua anche poi con le notifiche in questo modo quindi che dire ragazzi a me è un telefono che è piaciuto davvero davvero molto non posso che consigliare nell'acquisto soprattutto perché acquistato in italia pronto per l'italia si va da 1 euro si torna a carazzar con il telefono in mano a 199 euro che è il prezzo praticamente in cui viene venduto in tutta Europa davvero competitivo tra l'altro anche guardando su store cinesi e si trova allo stesso prezzo praticamente quindi non c'è alcuna convenienza perché qui avrete la garanzia italiana anche su amazon ovviamente è venduto a quel prezzo quindi non posso che consigliarvi il Redmi Note 7 seguite il nostro canale delle offerte perché come potete vedere qui escono sempre offerte ghiotte magari trovate anche qualche sconto per questo Redmi Note 7 o comunque verrete avvisati quando uscirà qualche novità riguardo questo telefono quindi iscrivetevi al canale recensione lunghissima adesso mi viene male a pensare come farò a montare questo video l'ho registrato oggi che è il primo aprile magari è uno scherzo di aprile che vi sto facendo da solo perché non uscirò mai a montare questo video lo scopriremo solo vivendo magari uscirà che è già uscito Redmi Note 8 abbiate pazienza ragazzi questi sono i tempi per questa recensione è tutto grazie a tutti per il supporto grazie per avermi iscritto in privato Mac e Tech è qui non è morto e ti dai tocchiamoci per questa recensione è tutto un saluto da Matteo per Mac e Tech sono anche senza voce ormai ciao non sono più abituato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti